A doppia bandata, un libro che parla della Palermo degli anni 80. È un libro che ha come contesto la Palermo degli anni 80, cioè la Palermo della guerra di mafia, ma è vagamente ispirato a quel periodo. In realtà è una storia d'amore ambientata, ripeto, in quel contesto, tra un uomo e una donna che appartengono a due mondi completamente differenti, perché lui è un killer della mafia. Lei è una donna di tutt'altro ambiente, una donna del temperamento dolce, romantica, legge i classici, insegna violino al conservatorio e si incontrano perché si incontrano. A Palermo succede e scoppia l'amore, scoppia la scintilla. Lei vive questa storia con forti sensi di colpa perché è sposata e non si fa troppe domande se non quelle che dovrebbero richiamarla ai suoi doveri coniugali. E capisce che qualcosa non va in quel ragazzo. Anche Lillo vive quella storia con tormento perché conoscendo Marinella, lei si chiama Marinella, lui si chiama Lillo, conoscendo Marinella ha conosciuto un mondo a lui ignoto, sconosciuto. Il mondo dell'amore, il mondo dei buoni sentimenti, il mondo della gente normale. E va in crisi perché capisce di aver bruciato i suoi anni migliori. E allora decide di tirarsi fuori, ma non lo può fare. Sa che un killer, il killer tra l'altro più operativo in quegli anni, è il killer di fiducia del boss della sua famiglia. Non può di punto in bianco voltare le spalle ai compagni. Però lui non è più un killer. Da quel momento in poi il suo essere cambia. Però sa che deve confessare, prima o poi dovrà rivelare la sua vera identità, la donna che ama. E questa è una delle pagine più drammatiche. E quel giorno arriva e Marinella subisce uno shock violentissimo. Il rapporto si interrompe. Lui decide di scappare perché i suoi cambiamenti non sono sfuggiti alla sua famiglia di mafia. Allora la sua priorità a questo punto diventa... Sono due le priorità. Salvarsi da vita perché cominciano a dargli la caccia. E riconquistare Marinella. Riconquistare il suo amore. E non è ovviamente una cosa semplice. A questo punto si innestano una serie di eventi, si corre ritmi forse nati tra Palermo e New York, Sicilia e Stati Uniti. Sempre sul filo dell'alta tensione. Con il lettore incalzato sempre dalla stessa domanda. E ora che succede? E adesso che succede? Questo per 306 pagine. Sempre con questa cosa di capire qual è il prossimo passaggio. Fino alla fine. Fino alla fine che riserva non una ma due sorprese assolutamente imprevedibile. Che spiegano anche il senso del titolo che può sembrare incomprensibile a doppia mandata. Che significa? Nulla. In realtà un significato ce l'ha. Si scoprirà le ultime dieci righe. Che differenza c'è dalla Palermo degli anni Ottanti adesso? E la Palermo degli anni Ottanta, quella vera, non quella descritta nel libro, che ripeto è una Palermo un po' inventata in qualche modo. La Palermo degli anni Ottanta, quella vera, è la Palermo che contava dai 200 ai 250 morti ammazzati l'anno. Quelli sparati per le strade, ai quali bisognava giungere anche quelli che sparivano senza lasciare tracce. Quindi un bilancio reale di quella guerra non si è mai fatto e non si potrà fare mai. Saranno stati 1.500, 2.000 morti, non lo sappiamo. Oggi le cose sono cambiate perché allora furono i cordonesi ad aggredire i palermitani e a sterminarli. Quella generazione di mafiosi non c'è più, grazie a Dio. Adesso c'è una mafia molto blanda. Allora era il gruppo di mafia più potente del mondo, cosa nostra. Adesso non è più così. Adesso sono quattro ragazzotti che cercano in qualche modo di emulare le cose che facevano i loro predecessori, chiamiamoli così, ma non c'è più quella... Infatti non si spara più, non ci sono più omicidi. C'è soltanto un capillare controllo del territorio dal punto di vista delle estorsioni che vengono praticate a tappeto in tutti i negozi, tutte le attività commerciali, dalle più modeste alle più remunerative, vengono sottoposte alla legge del pizzo. Ma da gruppi, da bande, che definire mafiosi è un po' forza una forzatura. Con la mafia, grazie a Dio, non c'è più. È un'altra cosa completamente. A doppia mandata di Enzo Mignosi parla di mafia e io mi sono sempre occupata di questo fenomeno. Mai abbassare la guardia quando si tratta proprio della criminalità organizzata. Quindi sono orgogliosa di avere accanto a me un giornalista che durante gli anni di piombo di mafia è stato presente a Palermo e ha fatto la cronaca di quel terribile periodo. Ringrazio sentitamente anche l'amministrazione comunale che ci ha consentito di essere qua al Filippo Corridoni e ringrazio anche Lettera 22 che rappresenta lo sponsore di questa manifestazione. A doppia mandata è un libro che si colloca tra il saggio, la cronaca e l'invenzione e la creatività dell'autore. Questo romanzo di Enzo Mignosi a doppia mandata è un romanzo che fa molto riflettere su quello che è la redenzione fra le fila dei mafiosi, fra quello che è la ricerca di quello che è la salvezza. Il protagonista di questo romanzo trova la sua salvezza in un amore, in un amore sensuale, in un amore per una donna che gli fa riflettere sul proprio ruolo, sulla propria vita. E' proprio qui che si gioca il tutto, attraverso un percorso che lo stesso protagonista, che è un killer, intraprende per arrivare a redimersi. Però il finale lascia veramente un po' interdetti. E' un libro che fa riflettere molto perché sappiamo che anche all'interno di Cosa Nostra negli ultimi anni si sono aperte veramente delle falianze e questo sicuramente ha fatto sì che lo Stato ha potuto infliggere importanti risultati contro la mafia, contro la criminalità organizzata in generale. Credo che questo romanzo di un cronista, Enzo Mignosi, un cronista che ha seguito negli anni della guerra di mafia a Palermo, negli anni Ottanta, le vicende proprio della mafia, fra immaginario, fra finzione e realtà, si inserisca davvero in quel filone di riflessione su quello che è la cultura mafiosa e quella che è la possibilità, attraverso la bellezza, di poterla sconfiggere.